La più cordiale buonasera, siamo in diretta dalla palestra Meucci di Aprilia per questo confronto tra Eagles, Aprilia e Formia nel 1905 e il campionato di Serie C femminile. Team Apriliano ha rimesso in gioco, Gervasi la conclusione di Atterga, palla per il Formia, c'è la Stoto, subito per la Romano che gira a rete, la battuta del calcio d'angolo, Atterga, ancora Atterga che riceve il tiro. Adesso è in avanti, ancora proprio sulla linea verso Perna, Lovero, Stoto recupera ma è da sola, ci prova la soluzione. Pastore tenta di liberare la compagna di squadra, invece capovolge l'azione, Eagles Aprilia, si attarda un po' troppo, il tiro sottomisura da parte della Giondi, la parte centrale della difesa con la testa a Stoto però rimette il movimento, l'Aprilia c'è il gol del vantaggio con Giondi. Giondi che si fa soffiare il pallone da Leopardi, il tiro da Leopardi, lancio lungo da parte di Jacoboni, Nardella mette giù, se ne va, disturbata da Giondi, Giondi, Stoto, adesso è un attacco due contro uno, c'è Jacoboni, la risposta. Pastore, Desimone, la battuta lunga, Litta recupera, adesso ci prova lei dalla distanza. L'Egols, il tiro di Desimone, adesso la fiondata, Desimone, Pastore al centro, prova dalla distanza, al ventesimo. Ci prova la possibilità con il tiro da parte della Romano che comunque la risposta dell'Efformia non si è fatta attendere, nonostante però non abbia trovato il gol. Adesso ci prova l'incursione, il diagonale, i compagni di squadra adesso dal fondo, Jacoboni, a Terga, Desimone, Stoto, il tiro, la risposta invece di Jacoboni, a Terga, il tiro, la prima intenzione da parte di Romano, la risposta di Jacoboni, se ne incarica, Romano va indietro per Stoto, cerca lo spazio per la battuta a rete, poi tira e c'è un gol! con la deviazione di Troncacci, arriva il pareggio. Il tiro diagonale da parte della Terga, Giondi, lo scambio, Pelle poi si impossessa del pallone, la possibilità, il tiro, c'è la rete! Il gol di Pelle! Adesso è Jacoboni sul pallone, lancio lungo, a Terga, approvata da Saric, c'è il gol del pareggio con Lovero, ben servita da Terga, ottimo l'assist, Stoto. L'ha scivolata il tiro da parte di Desimoni, arriva il triplice fischio finale, Desimoni, della sezione di Latina, decide che non c'è più tempo, finisce qui il confronto, si gode con il risultato di 2-2 tra Eagles, Aprilia e Formia 1905.